Fino adesso abbiamo parlato di variabili intrinseche, ovvero stelle variabili che modificano la loro luminosità effettivamente con vibrazioni interne, variazioni di dimensioni, espulsioni di materiale o eventi cataclismici in superficie o che addirittura devastano l'intera stella. Ora parliamo dell'altra grande categoria di stelle variabili, quelle estrinseche, ovvero quelle dove la loro variabilità dipende non dalla stella ma dall'osservatore e sono causate da eclissi, transiti o presenza di macchie in superficie. Oltre alle altre cause intrinseche esistono fenomeni esterni alle stelle come le eclissi nei sistemi binari che possono causare variabilità nella loro luminosità. Oltre alle eclissi possono generare variazioni nell'uminosità stellare come percepite da Terra anche fenomeni come i transiti di pianeti o presenza di macchie stellari, quindi eventi che dipendono dall'osservatore e non invece da fenomeni stellari. Cominciamo con il primo esempio, le eclisse, e in particolare dai sistemi binari che si eclissano a vicenda secondo l'osservatore. Una binaria a eclisse è un sistema costituito da due stelle le quali, viste da Terra, passano periodicamente l'una di fronte all'altra, quindi si eclissano. Quando ciò accade la luce totale ricevuta dal sistema diminuisce e abbiamo due eclissi. Abbiamo l'eclisse primaria quando l'oggetto meno luminoso eclissa quello più luminoso e l'eclisse secondaria quando l'oggetto più luminoso eclissa quello meno luminoso. E quindi abbiamo un'eclisse maggiore, primaria appunto, e un'eclisse minore, secondaria, dove rispettivamente i cali di luminosità sono maggiori in quella primaria e minori in quella secondaria. La variabilità non dipende da fenomeni che avvengono sulla superficie o all'interno di queste stelle, ma da fenomeni di eclisse che sottraggono o sommano la luce delle due stelle compagne, e di conseguenza quindi dal punto di osservazione dell'osservatore. Poi, ancora, le variazioni di luminosità sono molto regolari perché ovviamente sono moti regolari di orbita e questi movimenti aiutano gli scienziati a calcolare dimensione, massa e distanza orbitale delle due stelle. Poi ci sono casi con sistemi più complessi come ad esempio il sistema Algol, che è un sistema triplo. Nella costellazione di Perseo, a circa 90 anni luce da qui, abbiamo questo sistema composto da tre stelle, Algol A, B e C. Le prime due sono molto vicine, la terza è più distante e completa il suo periodo in circa 2.87 giorni. E ovviamente la regolarità della variazione di questa stella è molto più complessa perché non sono due, ma sono tre oggetti a eclissarsi tra loro. Poi, questo stesso fenomeno, ovvero quello delle eclissi, non avviene solamente tra sistemi doppi, ma anche tra sistemi e pianeti, ed è un metodo per poter scoprire la presenza di esopianeti. La variazione di luminosità di una stella può essere causata anche dal transito di un esopianeta. La variazione ha un'entità molto debole, anche perché il pianeta è almeno un milione di volte meno luminoso della stella e il calo di luminosità è veramente dell'ordine di un milione di volte. La variazione di luminosità si misura in frazioni di milionesimi e quindi necessita di misurazioni molto accurate, ma oggi gli strumenti sono abbastanza sensibili da permetterlo. Poi abbiamo le macchie stellari e cicli di attività. Le macchie stellari sono fermate da concentrazioni di flusso magnetico sulla superficie delle stelle. L'abbiamo già visto precedentemente in questa lezione. Nel Sole sono chiamate macchie solari e le variazioni della loro presenza è collegata all'attività stellare. Nel Sole, ad esempio, quando l'attività della stella è molto intensa, aumenta il numero delle macchie solari e quando invece è più cosciente, diminuiscono. Ovviamente, visto che il Sole è una stella comune, immaginiamo che avvenga anche nelle altre stelle. Però, se le macchie solari sono stabili in superficie, allora è la rotazione della stella che mostra all'osservatore diverse facce della sua superficie. Ad esempio, si immagina che la variazione della stella di Dolgeus sia causata da un'enorme zona scura sulla superficie che compare regolarmente all'osservatore a causa della rotazione della stella. Quindi la stella completa la sua rotazione in un periodo fisso e mostra regolarmente la faccia meno luminosa all'osservatore. In questo caso, anche se il calo della luminosità è causato da un fenomeno superficiale, è la prospettiva dell'osservatore che vede questa zona della stella alternativamente in un periodo costante a causa della sua rotazione che di fatto percepisce una variazione di luminosità. Quindi, anche se il fenomeno è superficiale alla stella, la variabile è estrinseca perché dipende da come l'osservatore percepisce la rotazione della superficie stellare. E, come abbiamo già detto, il Sole è la stella più vicina alla Terra, ci permette di osservare come funziona una stella e, in particolare, possiamo osservare la variazione delle macchie solari. Il nostro Sole completa un ciclo in circa 11 anni e qui vediamo i cicli registrati negli ultimi secoli e ogni 11 anni abbiamo un picco di massimo e un picco di minimo. Durante il picco di massimo aumenta la quantità di macchie solari. Qui vediamo due immagini del Sole, uno fotografato durante un massimo solare con un gran numero di macchie solari e un altro, invece, misurato durante un minimo solare, addirittura senza macchie solari. E qui vediamo come durante i picchi di massimi solari aumenta la radiazione che riceve la Terra. Quindi i cicli solari sono una forzante che condizionano il clima terrestre. Infatti, poi, durante gli ultimi mille anni ci sono stati dei minimi solari, uno è avvenuto all'inizio del XIX secolo e, in corrispondenza di questi minimi solari, il clima terrestre ha subito un calo delle temperature. Poi c'è da dire che, in realtà, ogni 11 anni il campo magnetico solare si inverte, quindi, in realtà, il ciclo completo avviene in 22 anni, perché dopo 22 anni, quindi dopo due cicli di massimi e di minimi, il campo magnetico torna al punto di partenza. E qui vediamo l'immagine del Sole durante un massimo solare, dove c'è un grande numero di brillamenti concentrati lungo le macchie solari, e una foto fatta durante il minimo solare, dove non ci sono brillamenti e l'attività è molto più debole e omogenea. Ho già detto che ci sono stati diversi minimi solari durante gli ultimi secoli. In particolare, ne è stato registrato uno tra i 1650 e i 1700, chiamato Minimo di Mauder. Lo sappiamo perché molte opere artistiche dell'epoca raffigurano fiere e eventi invernali sviluppati lungo i fiumi congelati europei. Quindi ci furono inverni molto freddi in Europa, ma sicuramente in tutto il mondo, e durante questi inverni furono fatte molte fiere sulla superficie dei fiumi e dei laghi congelati, che testimoniano proprio la rigidità di questi inverni. E ovviamente, come ci sono stati i minimi, ci sono stati anche i massimi. La seconda metà del XX secolo ha visto un massimo solare. Infatti, questo massimo solare moderno spiega in parte l'aumento delle temperature registrato negli ultimi decenni. Molti negazionisti utilizzano questo massimo solare per giustificare i cambiamenti climatici. In realtà, ulteriori informazioni ci dicono che questo massimo solare spiega solamente una parte dell'iscaldamento registrato nel XX secolo. Una buona parte dell'iscaldamento climatico terrestre è di natura antropica, cioè è causato dal nostro inquinamento. Però il ciclo solare dimostra che una parte dell'iscaldamento registrato nel XX secolo è di tipo naturale, causato proprio dall'aumento dell'attività solare. Quindi attenzione quando i negazionisti tendono a utilizzare questa tematica per giustificare le loro argomentazioni spesso ostili ad affermare che il cambiamento climatico attuale è causato anche dall'attività umane. Anche perché lo stesso grafico dimostra che da 2000 e poi l'attività solare sta diminuendo e quindi di fatto la temperatura del mondo continua a scaldarsi mentre attualmente l'attività solare sta diminuendo. Quindi anche qui c'è già il primo cortocircuito nelle argomentazioni dei negazionisti dei cambiamenti climatici. Questo è solamente un estratto della lezione completa. Nella lezione completa parleremo di tutte le reazioni termonucleari che avvengono nelle stelle in base alla loro massa e temperatura e della differenza che c'è tra queste. Vedremo le stelle variabili a breve periodo e quelle a lungo periodo. In entrambi i casi parleremo dei comportamenti irregolari e irregolari. Inoltre parleremo di come le stelle variabili siano state importantissime per le misurazioni extragalattiche. Ma nella lezione completa c'è tanto altro ancora. Parleremo del comportamento delle nane bianche variabili, del comportamento anche variabile del nostro Sole e tanto altro ancora. Potete trovare la lezione completa le stelle variabili del mio corso di astronomia sul mio canale YouTube e sulle mie pagine social prof. Antonio Loiacono. Grazie.